Nella giornata del 31 marzo in Puglia sono stati registrati 7129 nuovi casi di covid su 36.781 test, 16 le persone decedute. In provincia di Bari sono stati 2340 nuovi casi, in provincia di BAT 510, in provincia di Brindisi 680, in provincia di Foggia 844, in provincia di Lecce 1838, in provincia di Taranto 838. Continua ad aumentare il numero delle persone positive al covid in Puglia. Attualmente sono 118.596, 656 sono ricoverate in area non critica e 38 si trovano in terapia intensiva.